Musica Farà male a qualcuno se va in giro così. Quando è stanco di correre, un assassino deve prendere il volo. Guarda. Guarda. Un esploratore templare. È un altro lì. Sta a vedere. All'assassino! Aiuto! È il momento di separarci. Io mi dirigo al bazar. Tu resta qui. La vedi quella torre? Sì. Il covo di Galata? Evette. Non posso essere in due luoghi allo stesso tempo. Ma con te qui non ne ho bisogno. Buona fortuna. C'è qualcosa? Sì. 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 Come con te? Un attacco in città ha richiesto la sua presenza. Qual è la nostra situazione? Abbiamo respinto l'avanguardia, ma invieranno altre truppe. I vostri uomini sono pronti a un altro scontro? Adesso sì. Grazie. Grazie.